Due anni e mezzo di reclusione, questa la pena che dovrà scontare il 28enne tunisino che alcune settimane fa aveva aggredito Davide Frondaroli, l'agente della polizia locale di Arezzo, durante un servizio a Saione. La decisione è stata presa questa mattina dal giudice del tribunale Aretino Gianni Fruganti. Il 28enne con numerosi precedenti penali, nonché un decreto di espulsione dal territorio nazionale, resterà dunque dietro le sbarre. La vicenda risale alla notte tra il 22 e il 23 febbraio scorsi, quando alcuni residenti di Via Libia avevano chiamato le forze dell'ordine per una violenta lite tra un uomo e la sua compagna che si stava consumando nel bel mezzo della strada. Era così intervenuta sul posto una pattuglia della polizia locale, tra gli agenti presenti anche Davide Frondaroli. Il 28enne, in evidente stato di ebrezza, alla vista delle forze dell'ordine, aveva cominciato a dare in escandescenze ed è a questo punto che l'agente nel tentativo di separare i due era stato colpito da un violento calcio alla gamba che gli aveva procurato la frattura del perone se tanto i giorni di prognosi e la sospensione dal lavoro. Per il tunisino, accusato di lesioni aggravate, oltre che resistenza pubblico ufficiale, scattarono immediatamente le manette.